bentornati sul nostro canale oggi parliamo di tricipiti e andiamo a vedere tutto ciò che c'è da sapere per allenarli in modo corretto andremo a vedere uno ad uno tutti i parametri e tutti i fattori più importanti appunto per andare a migliorare la parte posteriore delle nostre basse quindi i tricipiti partiamo da il primo fattore il volume di allenamento sappiamo ormai bene l'abbiamo detto varie volte che per i gruppi muscolari principali dobbiamo attestarci tra le 15 e le 25 serie a settimana quando parliamo però di bicipiti e tricipiti dobbiamo fare un ragionamento infatti i muscoli delle braccia ricevono tanto lavoro in diretto cosa vuol dire per quanto riguarda i tricipiti quando alleniamo il petto negli esercizi di spinta sia orizzontale sia su panca inclinata i tricipiti sono attivi nella spinta sono attivi nel movimento quindi ricevono già un buon volume di lavoro a mio avviso non è l'ideale andare a lavorare con alto volume diretto sui tricipiti perché ne ricevono già decisamente tanto quando alleniamo per esempio appunto il petto quindi possiamo attestarci su un volume minore che possiamo ipotizzare tra le 12 e le 15 serie a settimana passiamo alla frequenza quante volte allenare i tricipiti nella settimana anche di questo ne abbiamo già parlato ampiamente per la maggior parte delle persone l'ideale è allenare un muscolo in multifrequenza quindi allenarlo almeno due volte a settimana quindi anche i tricipiti possiamo allenarli due volte a settimana a distanza di quattro giorni sui tricipiti spesso si hanno forti doms a differenza per esempio delle spalle che avere dolori nei giorni seguenti è abbastanza difficile sui tricipiti invece si possono accusare maggiormente questi dolori derivanti appunto l'allenamento quindi il mio consiglio è quello di aspettare almeno quattro giorni prima di allenarli di nuovo quindi una volta che abbiamo stabilito il nostro volume andiamo a splittare questo volume totale in due sedute passiamo all'intensità di carico quindi quanto carico usare quando alleniamo i tricipiti carichi pesanti carichi medi carichi leggeri anche qui secondo le nostre linee guida come abbiamo ripetuto spesso in linea generale sui gruppi muscolari principali il 65 per cento delle serie totali vanno fatte nel range medio nel range che possiamo chiamare ipertrofico che va dalle 6 8 ripetizioni fino alle 12 ripetizioni quindi la maggior parte del lavoro nei carichi medi la restante parte divisa tra lavori con carichi pesanti e basse ripetizioni e lavori con carichi leggeri e alte ripetizioni a mio avviso fare lavori di forza sui tricipiti ha poco senso non andrei mai a fare una french press con manubri con un carico alto facendo 34 ripetizioni per il semplice fatto che metterei a serio repentaglio magari lungo andare l'articolazione dei dei gomiti stessa cosa su un push down pensiamo di fare un push down con 45 ripetizioni con tanto carico ha veramente poco senso dovremmo compensare dovremmo spingere in basso non solo quei tricipiti ma aiutarci con tutto il corpo quindi a mio avviso non è assolutamente il caso di prendere in considerazione lavori con alti carichi quindi possiamo lavorare dalle 8 ripetizioni in su sono molto consigliati invece lavori metabolici con alte ripetizioni bassi carichi tecniche di intensità in tutte le volte che andiamo a fare lavori di isolamento quindi per esempio sui bicipiti sui tricipiti è interessante appunto avere una importante connessione mente muscolo e quindi lavorare con carichi bassi a cedimento e sentire bene appunto il lavoro sul muscolo target quindi escludiamo i lavori con alti carichi concentriamoci maggiormente sui lavori con medio bassi carichi prima di proseguire ragazzi vi ricordo che potete allenarvi anche voi con il nostro metodo con i nostri programmi via atlet programma se ti stai allenando da tempo e non stai raggiungendo gli obiettivi che ti sei prefissato molto probabilmente stai facendo degli errori che possono essere degli errori sui carichi sulla scelta degli esercizi sulla programmazione quindi se vuoi una guida che ti accompagni nei tuoi allenamenti che ti faccia raggiungere i tuoi obiettivi nel breve medio e lungo periodo entra in via tet programma trovi il link qui è in descrizione parliamo adesso dei vari movimenti dell'alternanza dei movimenti appunto da inserire in in scheda quando alleniamo i tricipiti possiamo farlo prevalentemente in quattro modi il primo modo è con l'omero lungo il corpo quindi quando per esempio facciamo un push down con l'omero in questa posizione quindi a 90 gradi come quando facciamo una french press con l'omero verso l'alto quindi a 180 gradi come quando facciamo un french press al cavo basso oppure con l'omero dietro il tronco quando per esempio facciamo un deep su panca quindi abbiamo queste quattro tipologie di movimenti qual è la più efficace è impossibile dirlo la cosa importante a mio avviso è alternare tutti questi quattro movimenti magari prediligere quelli che sentiamo maggiormente sul nostro tricipite quindi entra in gioco anche un po di soggettività quindi anche qui quando abbiamo trovato le nostre serie settimanali e le andiamo a dividere tra le sedute ricordiamoci sempre di alternare questi quattro movimenti parliamo adesso di progressioni è importante progredire nei carichi quando alleniamo i tricipiti anche qui l'abbiamo già parlato prima lavori a carichi alti li escludiamo quindi non è importante a mio avviso ricercare progressioni sugli esercizi sui tricipiti possano andare bene in una prima fase della nostra carriera quando ancora non siamo forti e quindi è abbastanza fisiologica naturale aumentare i carichi ma arriverà un punto in cui non riusciremo più ad aumentare il carico e aumentare un carico per esempio su una french press a mio avviso non è la cosa più consigliata perché appunto abbiamo l'articolazione del gomito che potrebbe soffrire di carichi alti quindi rischieremo poi magari di avere dolore al gomito di doverci fermare eccetera eccetera quindi non è importante ricercare progressioni di carico sui tricipiti ricerchiamoli su altri gruppi muscolari su altri esercizi lavoriamo con se vogliamo delle progressioni di volume quindi nel tempo cerchiamo di fare magari qualche serie in più all'interno del nostro meso ciclo qualche ripetizione in più possiamo sicuramente avere delle progressioni di intensità percepita quindi andare a inserire magari nell'arco delle settimane e delle tecniche di intensità per esempio la prima settimana parto con un classico 3x10 la seconda settimana vado ad inserire uno stripping nell'ultima serie la terza settimana vado ad inserire due stripping e la quarta settimana vado ad inserire lo stripping su ogni serie quindi vado a aumentare l'intensità percepita ma non devo preoccuparmi troppo di andare a aumentare i carichi è importante la connessione mente muscolo quando alleni i tricipiti direi assolutamente di sì in tutti gli esercizi di isolamento con soprattutto lavori con medi carichi e bassi carichi alte ripetizioni è molto importante a mio avviso concentrarci bene sul nostro muscolo target mentre su una panca piana il concetto di connessione mente muscolo sicuramente è da lasciare da parte perché è un esercizio di forza sui lavori di isolamento sicuramente dovremmo stare molto attenti nel sentire lavorare al meglio il nostro muscolo target non disperdere energie su altri muscoli sinergici oppure con compensi appunto derivanti da altre parti del corpo dove inserirli in scheda allora se siamo carenti secondo me è importante inserire una giornata dedicata magari solamente alle braccia in cui alleniamo solamente i tricipiti e i bicipiti o comunque se siamo carenti inserirli sicuramente per un periodo di tempo a inizio scheda se no possiamo un po inserirli dove ci piace di più ricordiamoci che se inseriamo dopo una seduta di petto arriveranno appunto già stanchi quindi gli esercizi per i tricipiti li affronteremo appunto col nostro muscolo già stanco quindi magari se volete dargli più enfasi in un determinato periodo alleniamoli per esempio dopo il dorso e quindi arriveremo appunto ad allenarli con il nostro muscolo che è più fresco per finire andiamo ancora più nel pratico e vediamo un esempio di split settimanale mettendo insieme tutto quello che ci siamo detti prendiamo appunto come target 16 serie settimanali li alleniamo in multifrequenza quindi due volte a settimana per dirigendo appunto lavori nel range che va dalle 8 12 ripetizioni e più di 12 ripetizioni alternando tutti i movimenti quindi il giorno 1 faremo un french press con manubri su panca piana un 3 per 8 e come secondo esercizio push down 3 per 10 come terzo esercizio di psu panca 2 per max quindi due serie a cedimento con poco recupero il giorno 2 andremo a fare un push down con la barra 3 per 10 un french press al cavo basso 3 per 12 più max tripping quindi inseriamo un lavoro più metabolico una tecnica di intensità e per finire un kick back al cavo basso due serie per 15 quindi vedete che abbiamo messo insieme tutto quello che ci siamo detti alternanza dei movimenti maggior parte del lavoro nel range medio con lavori più metabolici multifrequenza è un target di 16 serie a settimana quindi ragazzi come sempre mettete in pratica tutte queste cose se vi è piaciuto il video mettete il mi piace mi raccomando seguite il canale mettete il seguo il canale così vi arriverà una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video se avete domande scrivetele qui nei commenti noi ci vediamo al prossimo video ciao